SIGLA 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 Può la paura spingerci a sopravvivere? Il dolore e la sofferenza possono reprimere questo istinto. Lo scopriremo presto. Non sarà tanto facile ottenere la libertà. Cerco di vedere qualcosa! La gioia del massaggio, il sollievo, l'infinita estasi di versare sangue altrui. SIGLA Ora non avete più scampo. Per esserci qualcosa di utile qui. Avanzate discretamente nell'esperimento. Loro non hanno paura di nulla. Voi non potete nulla contro la mia forza. Non potete... Mi stupisce che ci abbiate messo tanto. Vi troverò e vi ammazzerò. SIGLA 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 Una chiave per accedere a nuovi pericoli. SIGLA Aceriamo tutto! la gioia del massacro il sollievo l'infinita estasi di versare sangue altrui E' illudermi a parte dell'esperimento? Bene, un barriere di speranza mantenete la calma Sì, è bloccata I vostri occhi e cuori non sono forse fatti per essere strappati via? Questo era solo l'inizio Curatevi qui! Inizio la prossima fase del test Avanzate discretamente C'è nell'esperimento Ti ridurrò in pezzi! Questa è la prossima fase del test Non è vero Questa è la prossima fase del test I vostri occhi e cuori non sono forse fatti per essere strappati via? Visto che cosa può donarci la scienza, perché vi ponete ancora? Prendetele. Ho altre sfide per voi. Se è qui, lo troverò. Ora non avete più scampo. Mi serve ancora la giusta pressione. Posso farcela. Non è quello che mi aspettavo. Nulla di impossibile. Non scherzare con me. Molto bene. Voi non potete nulla contro le mie forze. Occhi aperti. Credete che sia una mossa astuta? Non mi avrete. Ti spiacerà un mondo. E' chiuso, ridurro in pezzi. Non so di vedere qualcosa. Non mi avrete. Non mi avrete. Non mi avrete. Non mi avrete. I vostri occhi e cuori non sono forse fatti per essere strappati via? Abbiamo creato qualcosa di speciale per momenti come questo, divertitevi! La delusione potrebbe influenzare l'efficacia del virus. Come vi sentite? Siamo proprio qui! Fosse in voi gli sbrigerei, ma voi non siete? Potete pure morire qui! Non ne vedete! Cosa significa? Vedrò la vostra paura, di persona! Guarda qua! Raggiungerete la battaglia finale o chi riretti? Proprio come immaginavo! Una vittoria di nome, ma la mia ricerca è incompleta. Ripetiamo questo studio.